Mascherina obbligatoria nei seggi, matite sanificate dopo ogni voto, percorsi differenziati. Sono alcune delle misure di prevenzione previste dalle ASL pugliesi per garantire sicurezza e limitare il rischio di contagio di coronavirus durante le elezioni. Le ASL pugliesi, coordinate da Regione e Prefetture, hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti-Covid da applicare in occasione delle elezioni referendarie, regionali e comunali, che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. I servizi di prevenzione dell'ASL, Bari, in accordo con le Prefetture, hanno proposto un modello con modalità operative e precauzionali per l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto per i componenti dei seggi e per garantire il diritto di voto anche ai cittadini in quarantena, isolamento fiduciario e in trattamento domiciliare con i seggi speciali, si legge nella nota della Regione. Al seggio ogni elettore dovrà indossare la mascherina chirurgica, le matite dovranno essere sanificate al termine di ogni operazione di voto. Sono previsti accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi tramite aree di attesa esterne e percorsi differenziati per ingresso e uscita con apposita segnaletica verticale e orizzontale. I seggi dovranno inoltre garantire il distanziamento non inferiore a un metro tra i componenti dei seggi e gli elettori, oltre al ricambio d'aria e l'ariazione naturale. La disposizione delle cabine elettorali deve inoltre agevolare il movimento degli elettori al fine di evitare assembramenti. Elettori, componenti dei seggi e rappresentanti di lista, chiunque acceda ai seggi è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica. All'ingresso dell'edificio e di ognuno dei seggi vanno collocati dispenser con prodotti igienizzanti. I votanti hanno l'obbligo di igienizzare le mani prima di ricevere la scheda elettorale e la matita e successivamente al voto prima di lasciare il seggio. E' infine prevista la periodica sanificazione di tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. L'elettore non deve uscire di casa né andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, contatto con persone positive al covid-19 negli ultimi 14 giorni, quarantena obbligatoria o di isolamento domiciliare.